Ciao a tutti, sono tipo super agitata, un po' per il caldo che mi sta mandando alla testa sono chiusa in camera per evitare rumori strani il più possibile, però insomma ho caldo fatto sta che stamattina ho registrato un video che sicuramente vedrete prima di questo ero truccata, sono identica, solo che nel frattempo ho pranzato, sono uscita e quindi sono sciolta rossato non c'è più eccetera, ma mi è arrivato un pacco, come bambini a natale non posso aspettare che è questo raga non ci credo manco io, è una monthly box di no makeup, no life, piena di prodotti e cose giapponesi e asiatici perché io sono tipo quando mi hanno chiesto se volevo riceverne un errore tipo io, cioè io, siete sicuri, non è che state parlando no com'è, ok, si grazie e niente, vi lascio qua sotto il link, tutto quello che dovete sapere e allora, sono andata a rileggermi un attimino la mail il link che vedrete qua sotto è affiliato però già vi avviso che i pagamenti arrivano tramite paypal e io non ho paypal quindi ho messo una mail a caso chi se ne frega comunque, se volete dare un'occhiata a me fa piacere perché sapete com'è queste cose e è la stessa azienda che manda le Tokyo Treat e Yume Dreams che in realtà non conosciamo ma sono sempre box mensili di cose molto carine e niente quindi se avete voglia di cliccare il link, se no non fa niente, davvero fate come volete io sono qua, sono contenta, io sono, cioè è appena arrivato, tra l'altro non è arrivata a casa mia, è arrivata a casa di Mironi mi ha rapportato mio fratello da a me e sono coversa in camera quindi direi di vedere cosa c'è dentro e al massimo di provare qualcosa sono una limba felice, allora aspettate che vi ho portato le forbicine a rossa tra l'altro non c'è a dogana né niente quindi è molto buono Lara è molto contenta, davvero vi ringrazio tantissimo perché io non ho mai ricevuto una mystery box quindi sono tipo ahhh ahhh ok quindi ci prima dare un'occhiata a voi vediamo questa è la box di giugno ahhh va bene adesso vediamo cosa c'è dentro allora c'è dentro questa che è di è giapponese però a me in coria però dietro è tutto giapponese e lo riconosco sono arrivata lì ed è di questa marca che si chiama Sviziena ed è una vediamo un po' cosa c'è scritto qua perché raga allora non voglio spoilerare tutto si chiama pick me your juicy ecco juicy ball mask qua c'è scritto ok tutte abbiamo quelle mattine in cui non vogliamo alzarsi in cui non vogliamo alzarsi dal letto per questi giorni prendi la tua choosable mask che tra l'altro è tantissima ma mi sa che I see your bag sheet quindi è una maschera di quelle in tessuto e prova una freschezza istantanea bisogna tenerla su 10 minuti ed è key point è troppo carino è davvero troppo carino c'è scritto vabbè la descrizione in inglese le tip quindi consigli per usarli e key point quindi a chi è a cosa diciamo il punto chiave del prodotto a chi è rivolto che cosa serve principalmente e questo è per le persone molto busy quindi molto indaffarate che non dà più cosa fare poi vediamo questa scatola che è grande queste cose non le vedo da quando sono state in giappone mi sto commuovendo mi sa dovrebbero servire per fare i boccoli questo per acconciare le parrucche è comodissimo allora è scritto tutto canna e kanji quindi vediamo un po' eccola che trendy hair curl set è sempre giapponese c'è anche la bandierina adesso più questa è coreana questa è giapponese ma ha fatto troppo carino ma in realtà io sto appazzendo ed è vuoi aver l'effetto wavy proviamo andiamo un po' come sono oddio mio santo cosa non si inventano ditemi se volete provare se ovviamente magari posso fare un video in cui provo un po' di mascara e questi prodotti strani in ASMR ovviamente questa cosa è rilassante altro che per capelli e si quindi questi vabbè io adesso i capelli sono super caldo della Madonna questi vanno proprio arrotolati e poi chiusi andiamo avanti ok un'altra cosa giapponese hair cream finalmente magari posso fare qualcosa per i miei capelli che li curo proprio a zero soprattutto d'estate è una crema per capelli è scritto tutto in giapponese dietro ovviamente andiamo un po' è la Oshima Tsubaki hair cream say goodbye to bad hair days quindi saluta i giorni di bad hair days sarebbero quando hai capelli terrificanti di Oshima Tsubaki hair cream usa l'olio di camiglia giapponese per idratare profondamente i capelli e lasciarli morbidi, luminosi e con un aspetto sano lascia questa masch... lascia la... puoi mettere la maschera sui capelli umidi o asciutti gli ingredienti dell'olio di camiglia giapponese è un segreto di bellezza delle donne giapponesi favola adesso lo sniffiamo perché ovviamente si sniffa tutto io non ho visto ancora cosa c'è dentro sono davvero la gioia questi giorni qui fanno 40 gradi io vado ancora in alternanza la scuola lavoro ha un profumo molto delicato niente quindi per ora ho trovato questa la maschera di cosi strani per i capelli che direi no ragazzi questa la uso per tutti i video make-up che faccio questa è coreana mi sembra coreana visto comunque si sono abbastanza certa che sia coreano esatto infatti è delle cute house adoro troppo è delle cute house ed è una fascia per tenere i capelli assolutamente adulta per nulla infantile vabbè io mi prego ok potrei morire di caldo ma la userò lo stesso tutte le volte che mi trucco non me ne frega niente io la vedo sempre nei video avete presente quei video in cui le asiatiche si struccano e si tolgono pezzi di parcia hanno sempre sta cosa addosso o una cosa simile comunque se notate quindi ottimo mi sto ai capelli va bene ciao quindi questa fascetta favolosa altro prodotto giapponese è un lip moist quindi un olio idratante esatto ed è glossato e da usare quando le tue labbra sono secche per renderle nuovamente soffici e mettilo intossalo da solo oppure prima di un rossetto andiamo ad aprirlo ovviamente ci sono i vicini che fanno i lavori ma ci mancherebbe altro sembra più un gloss sa di limone un po' di detersivo di quei piatti infatti verde però a me piace questo profumo mi ricorda quando mi ero una mi faceva fare le bolle di sapone ricorda potetersi in dei piatti va bene ok dobbiamo metterne un pochino io in realtà ho un pochino sotto di rossetto ma non è appiccicoso ah sa anche di tic tac al lime ecco di cosa sa perfetto poi questo della H-Hard ed è una tinta lip tint balm si perchè i coreani in barra giapponesi soprattutto i coreani mi piace molto l'effetto degrade dentro le labbra io uso spesso per i cosplay questo genere di trucco labbra mamma mia che carino le labbra che non avrò mai io ho il colore 600 proviamolo è molto leggero come mi aspettavo vedete è proprio sì una tinta infatti tinge un pochino la pelle cosa di fragolino colino ma i packaging sono una cosa favolosa cioè non dovete farmene vedere queste cose io impazzisco e niente quindi questo qua probabilmente potevano uscire diversi colori a me è uscito questo che è tipo il più rosso però è comunque molto leggero scusate se in un attimo sono riscaldata la telecamera da stamattina c'è pomeriggio è un casino comunque volevo farvi vedere il mio nuovo look sono più bella di mai ammettiamolo no non è vero mai è troppo bello e niente io tutti i giorni così uscirò fatto sta che all'interno abbiamo ancora questo che è una lip tint questa è quella coreana l'altra era giapponese della marca Johnny Johnny story of a girl from countryside mi giuro c'è scritto così colore raspberry ed è praticamente un rossetto lip tint cioè come già vi accennavo prima i coreani parla giapponesi amano questo effetto degradé e mettono il rossetto solo qui all'interno sono più o meno tutti simili in realtà ai colori questo è solo un po' più pigmentato rispetto all'altro e niente questo qua e questa è la confezione che non poterò mai in vita mia io ho un'ossessione di non lo fare proprio non posso riuscire per me per me è impossibile ed infine questo lo so cos'è questo non c'è bisogno nemmeno che io lo faccio è l'eyeliner delle Tude House questo lo usa sempre Cleaner Pixel Cleaner Pixel nei suoi video tutorial di cosplay e quindi grazie a questo io farò dei trucchi fantastici solo perché ho questo tra l'altro è una boccetta gigante non pensavo fosse così grossa si chiama si chiama i Tude House on my eye line liquid eyeliner e parliamone già niente quindi io vi lascio così sono super contenta ringrazio ovviamente voi perché non avrei mai avuto la possibilità di ruggere questo caso senza canale grazie spero che il scorso roll play vi sia piaciuto in realtà non l'ho ancora montato ma incrociamo le dita e niente ci vediamo in un prossimo video ciao ciao